Cucchi 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 Si vola Si vola Lo ha visto Mirsi strani incoming Oddio i soldi Si è il falso Si è il falso togliti il suo nome Va la Ragazzi sono quello falso Cioè dopo 15 video che uso questo account Sono la persona falsa Va bene Ragazzi Paleolica c'è un modder Si è il falso togliti il suo nome Va la Ragazzi sono quello falso Cioè dopo 15 video Che uso questo account sono la persona falsa Va bene Potrebbe Ciao ragazzoli Benvenuti in questo nuovissimo video Ragazzi un nuovo episodio Se non sbaglio il sedicesimo Si di a caccia di moda Ragazzi già 16 episodi ma vi rendete conto E vabbè Comunque partiamo immediatamente Salutiamo subito le 4 persone che ho scelto Su Instagram ragazzi Allora saluto In 3k85 Bellalex mi saluti in un tuo video Salve Inc Poi Riccardo 5538 Ciao sono un nuovo Ho visto che porti contenuti molto belli Mi puoi salutare Salve Riccardo Alessio Manciagli Ciao Alex Mi puoi salutare nel tuo prossimo video PS Ti stimo tanto Continua così che arriverai ai 100.000 iscritti Grazie Alessio E poi saluto anche Fabri 017 Bellalex Direi di partire immediatamente Allora Sto da un bel po' di tempo in questa sessione Ma Non sembra esserci casino Più che altro La chat ce l'attiva? Sì Ragazzi Chi troveremo oggi? Il bimbo cantante Il bimbo l'acobar Il bimbo nutella Ragazzi Cioè Ormai nei miei video C'è sempre qualcuno Di diverso Capito? Quindi Chi troveremo oggi? Er pumello Che poi ragazzi Qua c'è Hiroshima Cioè Quello E le bombe atomiche là Mamma mia Perché ragazzi Ho preso la mia C20 finalmente Dopo anni che Stava depositata sul ponte Abbandonata proprio Comunque la sessione Stra strapina Tipo Il frame rate è bassissimo L'ho nuto Cavolo che succede? La macchina era entrata da sola Non ho frenato Vabbè Ho preso in testa Proprio Di precisione Uh Chi c'è qua sotto? No Qua sarà lo schifo proprio Ma che vuole questo? Cavolo mi Muri Cioè Mi vedi Mi ammazzi E poi no Ma che Cioè Vabbè Oddio Cosa ha fatto Uno splat di gente Lì Vediamo questo qua Che sta facendo Come se ne scappa Proprio Muri Uh Vedo un bel po' Di gente qui Vediamo un po' La situazione Questo già Mi starà mirando Capriola È morto in ritardo Mamma mia In due secondi Crepa proprio Cioè ragazzi Qua sopra Stanno facendo Il bombardamento nucleare Ciao No Sta la polizia Che mi dà fastidio Oh Oh Ragazzi Paleolica C'è un modder Penso di Ah sì Sicuramente sì Ma non so chi sia Ci sono le paleoliche Cioè guardate Ragazzi Le paleoliche Nel nulla Così Mori Ti ho preso pure io Però Minchia Sei il falso No Sei il falso Ragazzi sono il falso Da dietro Da dietro Non ci credo Mori Oddio Non c'ho vita Ragazzi Mi ha preso da dietro Che razza Dispondi Di dietro le persone Se il falso Togliti il suo nome Va là Ragazzi Sono quello falso Cioè Cioè dopo 15 video Che uso questo account Sono una persona falsa Va bene Cioè ragazzi Oh Modder Mi teletrasporto Ma mi hanno ammazzato E cuore però E se mi ammazzano E non riesco a fare niente Io Modder Siamo là gi intorno Se sei modder Non ti fai ammazzare Ti metti la La good mood Cioè Anzi la good mood Perché Mi dici di portarmi Ma dici Io devo spegnere Quindi mentre tu ti portai È per questo E chiedi Ma dimmi se può portarmi Anche a me Che devo spegnere pure io Ma anche voi le buche E gli odici tu Cuore Oh no Cuore Ah no Aspetti cuore Io devo spezzare adesso Chi è E gg E gg 04 Ma portalo lì Ma portalo lì Arrivo E quella È dintorno Stai fermo Però cuore No raga Forse non mi conosce nessuno Qui Forse non mi conosce nessuno Beh ragazzi Auguri per i 1000 Bello Tac Mannaggia La miseria Sapevo io Lo sapevo io Ecco Me lo avrei trasportato Le orecchie Le orecchie Ecco No no cuore No no cuore Cuore Alessi Cuore Alessi No sono Cuore Ti dò tantissimo i soldi Oddio i soldi Oddio i soldi Oddio i soldi Oddio i soldi Uuuuh E io E io E tu O mi dai I soldi Cuore Anche a me Ti prego Cioè raga Mi ha sbottato i soldi Guardate I soldi A vedere le macchine pure Stai qua tantissimo Steffi Vieni a prendermi Steffi Di sotto Ti dico Ma questo Ma questo Ah ti accetto L'amicizia Si A faccio Di modder E Gigi E no E neanche più Una macchina Per colpa tua Che mi hai ammazzato No 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 Non sono stato io Era il modder Che ha preso controllo Del carro armato Ma che si è meglio No E mi ha scritto E Gigi Ti è cancellato No Vabbè E' successo Quell'altro Guarda La via conoscere Raga Ma chi è Eccolo Ho trovato Vai fermo Non Non uccidermi Che che è Vai Non puoi accedere al veicolo Uff Raga Non so chi sia il modder Veramente Non lo so Di ma Potrebbe Potrebbe Si pensano Il microfono Ancora questo Che ammazza tutti Oh che palle Ragazzi La processione Da dietro Beh Ragazzi Io cambio sessione È stato un piacere Anche se non mi sentono Però poi Quando vedranno il video Lo sentiranno Un piacere E' Magari mi conosce Ora provate a usciderlo Però forse mi conosce Non lo so Si vola Capriole infinite Anche lui Che non crepa In ritardo Ok mi hanno sgammato Chi è? Ok Potrebbe Non è sicuro che sto facendo il video Chi lo sa Sta a fare il video di Roma Oh Potrebbe Ragazzi Iscritti gratis proprio Speravo di incontrarti E dopo ci ritroviamo su YouTube Tutti insieme Vai Chi è? C'è un modder C'è un modder ragazzi È vero Non lo so Non lo so Alex va a caccia di modder Qui Qui Non so chi sia il modder ragazzi Comunque Ha messo C'ha pure il mod Uno di Demo Alex Una ragazza con le È scomparsa Ah ecco Ragazzi Non so chi sia il modder Non gli udio Beh ragazzi è bello Da incontrare i fan in sessione Già due sessioni strapine di persone Sono contento Saluto chiaramente Tutti a chi è che sta sparando Adesso Ma prendo il copyright Per le canzoni Che stanno mettendo dentro Ragazzi tedeschi In sessione Penso sia tedesco Sicuramente è tedesco No Forse è francese Ragazzi abbiamo trovato Il bimbo francese Devo andare per forza da lui Spero sia vicino Non lo so Ragazzi questo video Si concluderà col bimbo francese O è tedesco Non lo so Però ho sentito Un accento francese Alla fine Di quelli potenti Quindi mo mi bestemmerai In francese Addio Mi ha ucciso Il bimbo francese Ragazzi Pure il missile Vai Perfetto Eccolo Eccolo Fuori Poi dove Ragazzi non mi mira Chi mi deve Passa una sul terrazzo No vabbè raga Quanta polizia c'è Guardalo Pam Si sta arrabbiando ragazzi Si è francese ragazzi È francese È francese È francese È a voglia Tac Alex 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 Ragazzi il bimbo francese Si sta arrabbiando Ragazzi Sento che pronuncia Il mio nome Ma non capisco Cosa dice Ecco XCN Ho cambiato nome Questo qua Non l'ho ammazzato Ma ancora una volta Mi deve uscidere Vabbè Tutto invisibile Che cos'è Comunque ragazzi Io penso di concluderla qua Abbiamo trovato Un macello di fan La discoteca Il bimbo francese Che starà insultando Si sta arrabbiando Tutte le cose del mondo Dov'è che sta Guarda Guarda Oh Madonna È esplosa male È esplosa male Chi è? No L'u 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 Eccolo Buri Buri Vabbè Questo mamma Ammazza L'ho ucciso prima Comunque ragazzi Per questo video è tutto Vi lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Questo episodio è successo Il macello Di tutto proprio è successo Ringrazio tutte quelle persone Fan che ho incontrato Veramente Grazie mille Grandissimi Noi ci vediamo al prossimo video Ragazzi Se volete essere salutati su Instagram Mi raccomando Ragazzi In descrizione C'è il mio profilo di Instagram Il mio profilo di Instagram Ragazzi E commentate le mie foto Mi raccomando Per essere salutati Vi invito a lasciare un bel mi piace A questo video Superiamo i 700 like Anche in questo video E noi ci becchiamo Al prossimo video Bella